Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad. Sparo e so cose sullo sparare. Quest'arma l'abbiamo recensita, ma l'oggetto della recensione di oggi è questo Red Dot. Siccome a molti di voi è piaciuta la recensione della LPVO, della Vector Optics, un'azienda che conoscevo in realtà da tantissimi anni, beh, anche loro erano molto contenti. Mi hanno mandato da provare il loro Red Dot. È un Red Dot in due diverse versioni, da 3 MOA e da 6 MOA, quindi con puntini di grandezza diversa, che si adatta a tantissime pistole diverse e a tantissime slitte di attacco diverse. Anche questo, nota bene, era un prodotto che già conoscevo da anni e quindi avevo il piacere di presentarlo e portarlo a voi. Oggi lo provo su questo BNT APC che abbiamo già visto sul canale. Non lo provo su una pistola per il semplice motivo che in questa confezione arriva soltanto con la slitta Piccatini. Mi hanno mandato una slitta apposita per la Beretta 92, solo che c'è stato un problema di comunicazione. Io intendevo la Beretta 92X, mentre loro di fatto mi hanno mandato l'attacco per la Beretta 92A1, che sono due attacchi diversi, quindi purtroppo non c'era tempo di spedirmi un altro attacco per la 92X. Ma ai fini della recensione questa bellissima, come chiamarla, PCC carabinetta, legalmente parlando in Italia, comunque una pistola, basta e avanza. Come prima cosa vediamo cosa c'è nella confezione e come si monta. Il dot vi arriva in questa confezione che si ha la versione A3 o A6 Emoa. Sigillato qui, come vedete, possiamo andarlo ad aprire. Si apre abbastanza elegantemente in queste due parti. Foglio con istruzioni. Un panno per andare a pulire lo specchio. Istruzioni, propriamente dette, con tutte le informazioni necessarie. E attenzione a ordinare la piastrina di montaggio corretto, perché nella confezione qui non c'è la piastrina di montaggio, c'è soltanto quella a piccativi. Possiamo andare così a rimuovere il nostro dot, che ha questo gommino protettivo su di esso, e la base di montaggio default che abbiamo è quella della slitta piccatini. Come ripeto, si può ordinare altre basi di montaggio, attenti a fare quella corretta. Qui la colpa è tutta quanta mia. A completare la dotazione, ci sono due brugole, che ci permettono il montaggio e la regolazione, ovviamente perché il dot stesso va azzerato. L'unica cosa che manca in questa dotazione, a dover essere pignoli, è la batteria. La batteria che questa è mia, l'ho comprata a parte. Ma se magari ho ordinato di questo dot e vi arriva, e siete particolarmente eccitati di montarlo e vedere come funziona, se non avete la batteria, non potete farlo. È una cavolata, ma mi piace avere le batterie incluse. Procediamo con le operazioni di montaggio, allentiamo un pochino. Tra l'altro questo non è neanche una brugola. Questo è un Torx, qui mi vengono i flashback del Vietnam con il Palace. Ecco qua. Possiamo andare così a posizionarlo. Vediamo se qui andrà bene. Dovrebbe andar bene comunque senza alcun problema. Rimettiamo qua l'attacco. Adesso l'avessi messo dritto. Ok. Teniamolo. Andiamo a stringerlo. È importante quando si fanno queste cose, spero che le vediate, se non le avete mai fatte, bisogna andare a stringere bene. E se sembrerebbe che è tutto. Invece no, ora dobbiamo... Perché questa è l'ottica, il dot con il mount. Ora dobbiamo smontare l'ottica propriamente detta, dal mount. Certo, potevamo fare prima questa parte, ma alla fine l'ordine di due cose non cambiava assolutamente niente. Perché dobbiamo smontarlo per avere accesso al vano della batteria. Ecco qua. Come vedete, questo è l'attacco propriamente detto per la sdilda Piccatini. Mentre sotto abbiamo la nostra batteria. Infatti possiamo inserirla. Testiamo se l'abbiamo messa bene. La possiamo testare. Fatti vedere. Eccolo qui il nostro puntino. Perfetto. Montiamo di nuovo tutto sull'arma. Così finalmente lo possiamo provare. Ok, diamo un altro giro per serrare l'attacco del mount. Ok, ora dobbiamo completare le operazioni di azzeramento per poterci divertire al poligono. Bene, andiamo ora a eseguire le operazioni di azzeramento. Innanzitutto accendiamolo perché devo poter vedere qualcosa per sparare. Ha vari livelli di potenza. Ora diciamo che è abbastanza potente e abbastanza ben visibile. Proviamo cinque colpi. Poi con la brugola, o meglio il torx incluso, se serve possiamo andare a cambiare la deviazione. Sparo cinque colpi e vediamo il bersaglio. Ok, diamo un'occhiata al bersaglio. A me sembrano i colpi da lontano da qui un po' in basso a destra. Il nostro gruppo da 12 metri è abbastanza concentrato. È difficile sbarriare con un'arma imbracciata alla mira. Come vedete sono tutti quanti concentrati in basso a destra. Quindi dobbiamo andare in su e a sinistra. Attrezzo incluso. Abbiamo abbastanza chiaramente indicazioni su dove girare per andare in su. Quindi mettiamo la nostra grubola. E devo girare in senso orario per alzare. Li diamo... Io ho dato un quarto di giro. E vediamo anche con un quarto di giro a sinistra. Spariamo altri cinque colpi per vedere dove va il gruppo adesso. Andiamo a dare un'occhiata. Il gruppo si è largato un po' e questa è colpa mia. Ma mi sembra abbastanza centrato. Forse è ancora un pello a sinistra. Andiamo a un pellino a sinistra e darei un pellino di elevazione. Allora. Un pellino ancora a sinistra, poco a poco. E un pelo, pelo in su. Ok. Altre cinque colpi. Direi che è pure troppo a sinistra. Do un mini clic a destra. E proviamo il bersaglio a venticinque metri. Ok. Allora. Alcune sensazioni che riguardano la mira. E' pure una questione di abitudine. Ma bisogna fare abitudine al dot e alla sua dimensione. Ora. Questo dot viene in forma da tre Emoa e da sei Emoa. Noi oggi stiamo provando quello in realtà più piccolo. Da tre Emoa. Nella mia esperienza, soprattutto nell'insegnare le persone a sparare, ho trovato che molti principianti e molte persone anche un pochino più esperte hanno quasi che difficoltà a coprire il bersaglio. Nel senso che loro vogliono vedere il bersaglio al quale stanno sparando. Mentre essenzialmente un reddotte richiede di darlo a coprire. I disegni che ho fatto, che tra pochissimo vediamo, sono quasi completamente coperti dal dot a questa distanza. Forse diminuiscono un pochino la potenza? Sì, forse diminuendo un pochino la potenza vengono un po' meno coperti. Tutto questo per dire che in realtà i reddotte hanno bisogno della giusta mentalità. Non a moltissime persone piacciono per il semplice motivo che sono diversi, è una cosa diversa. Hanno tantissimi vantaggi. Prima di discutere lì, diamo un'occhiata al bersaglio. Ora, sarà qualche errore mio, ma qui i bersagli sono abbastanza piccoli. Voglio riprovare ancora con il dot meno illuminato. Tendenzialmente, se questa fosse una zona punti, non avremmo grossi problemi. Ma questi bersagli più piccoli, mi piacciono questi esercizi con i bersagli più piccoli. Una cosa che spesso propongo, chiamiamoli ai miei allievi al poligono. Ti distraggono, ti confondono tantissimo e questa è una cosa positiva. Proviamo ora col dot meno illuminato. Purtroppo è difficile farlo vedere. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì il dot. È difficile farlo vedere, ma eccolo là. Quello che i dot fanno, e non moltissime persone capiscono questa cosa, il grande vantaggio dei dot, o di questi sistemi di puntamento, non è nel tanto nel puntino in sé. Il puntino in sé non ha proprietà magiche. Ecco, uno che magari viene dai videogiochi, pensa che ha proprietà magiche. Assolutamente no, l'arma bisogna allinearla correttamente. Anzi, il puntino rosso, col fatto che va bene a coprire, può dare fastidio a alcune persone abituate magari a una mira cosiddetta zona. Quindi mirando sotto il bersaglio, tecniche di tiro un po' più di precisione, con varie tipologie di armi. Il grandissimo vantaggio di questo, ma in realtà di tutti quanti i red dot, riguarda due aspetti del vedere il bersaglio. La prima cosa, non ho sotto l'arma, nel senso che guardando... Vediamo se riesco a farvelo di nuovo vedere. Eccolo qua. Guardando attraverso la lente, il puntino rosso è al centro. Tradotto, se è un'arma che ha mirino e tacca di mira, quello che è sotto il mirino e la tacca di mira mi sparisce. Per cui ho più visibilità sul bersaglio. Ma sapete qual è la cosa veramente più importante? Chi spara lo sa, chi non spara forse per voi questa è una cosa nuova. Il nostro occhio può mettere a fuoco solo una cosa. E ci sono tre cose che possiamo guardare quando spariamo con mirino e tacca di mira. Il mirino, quello davanti, la tacca di mira dietro, oppure il bersaglio. Ora, per sparare correttamente, si va a guardare il mirino, quello davanti. Ora, finché il nostro bersaglio sta fermo, ha una forma nota ed è a una distanza nota, averlo sfocato, leggermente sfocato, non è un problema. Ma nel momento in cui dobbiamo passare a applicazioni più reali, tra virgolette, come ad esempio un tiro dinamico che si può fare con quest'arma, oppure un vero tiro difensivo operativo, vedere il proprio bersaglio è imperativo. E soprattutto, vederlo a fuoco aiuta a accorciare i tempi di reazione. Ora, il nostro occhio è abbastanza veloce nel mettere a fuoco, se passate una cosa vicina, una cosa lontana, a mettere a fuoco. Ma è sempre tempo che scorre. E la grandissima, fantastica cosa che hanno i red dot è che il bersaglio è a fuoco. Io posso guardare il bersaglio e mettere il puntino sopra. Gli olografici questa cosa lo fanno ancora meglio, ma costano lire di Dio, i mirini olografici. Chi ha avuto la fortuna di spararci sa che cosa intendo. Il red dot è un ottimo compromesso tra la qualità e il prezzo. Ora, chi mi conosce sa che, nonostante i miei iscritti che mi rendono il primo canale in Italia su questo tema, sono abbastanza arrestio nel farmi mandare e testare i prodotti. Non vado matto per fare pubblicità, nel senso che sento come se mi andasse via un po' della mia integrità morale, se mi sento costretto a dire bene qualcosa di un prodotto. La collaborazione che ho con Vector Optics è iniziata molto bene, soprattutto per il fatto che conosco già i loro prodotti, quindi posso sinceramente dire che mi piacciono, sono prodotti corretti. Si tratta del migliore redotto al mondo? No. Però per il prezzo che ha, è veramente buono. Non solo, sono tenuto a dirvi che oggi il Black Friday, tradizione che viene dall'America di fare le spese natalizie dopo il Thanksgiving, l'ultimo giovedì di novembre, e quindi oltre allo sconto che avete col mio codice, il prodotto, in realtà tutti i prodotti sul loro sito, sono ancora più scontati. Quindi se volete approfittarne per fare degli acquisti, ma anche sostenere il canale, perché una piccolissima percentuale delle vendite va a me, il 5% specificamente, mi fa molto piacere. Ci tengo moltissimo all'onestà intellettuale in queste recensioni. Non ho l'ambizione di fare grandi soldi con YouTube e né di spammare costantemente sul canale recensioni di prodotti. Per cui vi faccio una promessa. Vedete, questa carabinetta è una delle armi disponibili in affitto qui a Legnano, al TSN di Legnano. Io questo redotto su questa carabina lo lascio. Lo lascio perché così altri tiratori potranno venirla a provare, magari volendo provare l'arma si ritrovano ai dot. Ma sapete, l'arma viene trasportata, sbattuta, manipolata da persone diverse, da tiratori diversi, da istruttori diversi. Voglio vedere come se la cava nei prossimi mesi. Se mantiene l'azzeramento, se presenta qualche problema, se magari sbattendo si rompe facilmente. Dovessero queste cose succedere? Ovviamente vi terrò aggiornati. Da me e dal Frenzy X della Vector Optics è tutto. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima.